Buon pomeriggio e ben ritrovati al nostro contenitore sportivo Ritiro Life in cui andiamo a parlare dell'Udinese, andiamo chiaramente ad aprire anche una finestra su tutto quello che sta succedendo parallelamente al Bruseschi dove l'Udinese sta preparando l'esordio ufficiale stagionale per quanto riguarda la Coppa Italia e sì amici ormai si entra nel vivo le amichevoli, l'ultima appunto con la vittoria in rimonta sull'Algeish la squadra delle Forze Armate Catariote è ormai agli archivi, adesso si guarda avanti e il primo ostacolo sulla strada dei bianconeri è lo Spezia di Riccardo, vedete sul sito ufficiale della squadra Spezzina Ligure addirittura c'è il countdown per quello che è l'attesa alla partita effettivamente da parte Spezzina quando si affrontano squadre di categoria superiore più blasonati in uno stadio importantissimo ed esteticamente clamoroso come la Dacia Arena, chiaramente l'ambizione e quelle che sono le sensazioni vanno a decuplicarsi e da parte Spezzina vediamo già qual è l'attesa all'evento quindi è bene annotarlo onde fare in modo di capitalizzare al meglio quello che è il fattore campo, tra l'altro una squadra quella dello Spezia è nata nel mimo di Carlo che l'anno scorso ha fatto i play-off e solo dal Trapani è stata estromessa nella corsa alla Serie A, quindi avversario assolutamente di ottima caratura detto questo facciamo un piccolo passo indietro e poi andiamo a concentrarci sulle immagini che arriveranno dal Bruseschi si è giocata una partita, l'ultima amichevole come ha constatato il nostro tecnico Beppe Iachini di avvicinamento per testare la condizione in vista del debutto stagionale ufficiale Vittorio in rimonta, volti nuovi nel tabellino dei marcatori, andiamo a vedere appunto la sintesi di quanto successo ieri Ben trovati amici appassionati bianconeri di Udinese TV in diretta allo stadio Teghil di Lignano dove gli scorci sono belli, ovviamente diversi da quelli che abbiamo visto in Austria la giornata che si è aperta con il passare delle ore dopo le piogge che soprattutto questa mattina si sono abbattute su Udine splende un bel sole allo stadio Teghil, si inizia con l'Algaische che attacca da sinistra verso destra dei vostri teleschermi l'Udinese ovviamente dalla parte opposta, subito puntuale sulla destra Ertò che serve Peñaranda in area di rigore Peñaranda all'indietro, la palla resta lì e alla fine in qualche modo si salva la difesa, corner per l'Udinese questo Peñaranda però se gioca così ci piace molto Sì perché vedi come è detto al passaggio in profondità, poi il cambio di passo repentino che mette in difficoltà il proprio avversario Tocco fortunoso di Abker mentre batte De Polla, allontana Lukas Mendes, Yankto, la parata da parte del portiere poi Peñaranda non riesce nella... tapin, ancora Peñaranda, la palla che scheggia credo la traversa con la sfera che si perde sul fondo, fiammatona dell'Udinese, afferma Yankto prima e Peñaranda poi proprio nella giornata di Ferragosto, lunedì, nell'ultima gara del terzo turno eliminatorio di Team Cup contro il Cagliari, attenzione però all'occasione per l'Algaische con il tiro ribattuto chiedevano un fallo di mano ai giocatori, Catariotti così non è, Peñaranda può andare in campo aperto uno contro uno, Peñaranda salta il difensore, ancora Peñaranda con il tacco all'indietro per De Polla, palla sul fondo, aveva fatto tutto bene Peñaranda nell'occasione precedente con Badu che era andato invece su un altro movimento la palla dentro adesso per Romarigno e il vantaggio al full micotone dell'Algaische con un destro all'angolino, non poteva segnare nessun altro che lui Romarigno, gran diagonale su una immediata verticalizzazione, ne stavamo parlando praticamente poco fa è stata brava la formazione di Catariota a recuperare il pallone, posizionata male la difesa bianconera con Danilo che seguiva Romarigno e per questo non è riuscito a metterlo in fuorigioco poi il brasiliano, ha incrociato benissimo L'Udinese si scopre, riparte, errore di Fofanà con troppa confidenza, perde il pallone Badu la palla resta, Lipalo colpito dall'Algaische e qui segniamo con la matita rossa troppi errori prima Fofanà e poi Badu sono stati troppo leggeri nel chiudere l'azione di Rashdov che praticamente alla fine vuoi o non vuoi, ridendo e scherzando era arrivato in porta e ha preso il palo Gran giocata di Duvan Zapata che poi però ha un controllo infelice, Duvan Zapata se la porta sul destro ancora Duvan, calcio di punizione dalla Mattonella dove potrebbe fare male, Rodrigo del Polo ancora Ridermatos, Armero, il cross, Arbauì la palla sull'esterno della rete sembrava quasi destinata all'incrocio dei pali qui molto bene l'Udinese con il cross di Armero, si avvita Arbauì, palla che finisce fuori di poco, ti ho trascinato il nome di Arbauì proprio per quel motivo mentre c'è un arraccio della difesa dell'Algaische, la palla dentro per Arbauì che questa volta non sbaglia e arriva il pareggio dell'Udinese e chi di regalo ferisce, di regalo perisce l'Algaische spiana la strada al pareggio dell'Udinese, finalmente si sblocca il tunisino Andi, Arbauì al 49esimo minuto, segna un gol facile con assist di Coné però pronto e freddo a battere il portiere il corner che batte Coné, il tacco di Bubnic a prolungare la traiettoria la finta di Lodi che con il mancino sfiora il gol del 2-1 c'è stata una deviazione quindi calcio d'angolo per l'Udinese quando Lodi ha lo specchio della porta di fronte a sé è sempre pericoloso Guarda come gira la palla, bellissima corner corto, ancora Lodi dentro, la parata di Abubaker Alfredson la controlla male, vediamo Angella che deve dar fastidio alla ripartenza catariota l'Islandese va adesso nella zona di Panaglio di Secone che serve a Armero, il cross di prima intenzione di Armero Widmer prova con la testa, Evandro, la palla resta lì, ancora Evandro la sfera finisce in rete, segna subito Evandro all'esordio bagnato con il gol, grande l'impatto nella gara di Evandro che segna un gol magari non bellissimo ma fatto di tanta voglia, volontà e se dobbiamo giudicare un predestinato da queste piccole cose speriamo che sia come diciamo spesso il primo di una lunga serie di quello di Evandro che ritrova la sfera in maniera fortunata ma poi è velocissimo e lesto a metterla in fondo al sacco l'abbiamo analizzato spesso nelle clip di presentazioni calcio di punizione per la formazione catariota con la palla scoderata nella zona di Mendes che in spaccata ci va male l'ultima azione del match finisce qui, finisce 2 a 1 la partita tra Udinese e Alja Isha, il gol di Romarigno hanno risposto i due non acquisti Arbawi ed Evandro, una Udinese un po' troppo timida nel primo tempo spavalda e vincente nella ripresa Eh sì, questo è quello che ha detto l'ultimo test prima della Coppa Italia prima del debutto ufficiale nella stagione 2016-2017 l'Udinese si sta preparando in questa maniera dall'altra parte altri bianconeri, gli avversari di sabato sera alla Dacia Arena lo Spezia ha disputato un galoppo in famiglia, si legge sul sito ufficiale dove la squadra di Di Carlo ha segnato sei reti alla formazione primavera guidata da Flavio Giampieretti l'importante è notare chi si è inserito nel tabellino dei marcatori andiamo a vedere il galoppo in famiglia si è concluso con sei reti realizzate dalla prima squadra segni da Vio e Rasti seguito da un ottimo Piu consideriamo che questo giocatore qua è Friulano di Udine è cresciuto nel Gonarsa, Alessandro Piu Nenè, una vecchia conoscenza, ex Cagliari mentre la ripresa Capitan Terzi su assist di Schaudone e soprattutto attenzione a questo giocatore qua doppietta di Okereke è un attaccante nigeriano dell'agosto 97 di cui si parla benissimo si parla di questo giocatore in seguito dalle due squadre di Genova Sampdoria e Genoa ma non solo, un giocatore di grande protettiva hanno poi arrotondato il risultato lo Spezia è questo una squadra che è cambiata molto rispetto al passato un'informazione che nel recente passato era di chiara matrice balcanica quali più giocatori, anzi senza il quadro di estrazione balcanica che italiana adesso sotto la guida di Carmi la situazione si è ribilanciata e sono molti i giocatori italiani attenzione appunto a questo nigeriano attaccante centrale Okereke del 97 un passo indietro in questo ideale palleggio di linea fra Udinese e Spezia andiamo a sentire cosa ha detto il nostro tecnico Iachini al termine del galop di ieri sera Mister, una doppia formazione per questo test come ha visto i ragazzi sia nel primo che nel secondo tempo? No, l'hanno interpretata bene con spirito cercando di riproporre le cose che prepariamo durante la settimana non siamo stati molto precisi nel primo tempo abbiamo sbagliato qualche gol di troppo qualche ultimo passaggio ma continueremo a lavorarci poi abbiamo rischiato pochissimo peccato su una delle pochissime situazioni create la squadra avversaria ha fatto gol ma andremo a rivedere questa cosa poi nel secondo tempo siamo entrati bene ugualmente abbiamo spinto, abbiamo creato occasioni e abbiamo ribaltato i risultati ma comunque contro una squadra di serie A abbiamo comunque fatto un passo avanti nell'ottica della preparazione della Coppa Italia e del campionato Mister, nel primo tempo magari so che non accetterà questa spiegazione ma forse c'era un po' la testa della Coppa Italia No, no, no al primo tempo hanno cercato di costruire ripeto abbiamo sbagliato qualche gol davanti alla porta qualche ultimo passaggio ovviamente ancora qualche ragazzo non è ancora al top della condizione ma è normale quando si fa dopo una preparazione c'è alcuni che magari entrano prima in condizione altri bisogna aspettarli un po' di più ma questo sta nella logica del lavoro delle squadre delle caratteristiche fisiche di alcuni ragazzi però continuiamo a lavorare sapendo che da qui a 20 giorni è chiaro tante cose magari saranno ancora diverse La nota lieta di questa sera hanno segnato due nuovi acquisti due debutti con il gol soprattutto Evandro che praticamente non era neanche ancora entrato una nota positiva per lui Sì, è un ragazzo che si allena con noi da 4-5 giorni quindi è normale che ha ancora tanto da lavorare da fare, da capire però è entrato con lo spirito giusto questo è già importante cercando di andare a fare i movimenti che gli chiediamo ma ancora ovviamente molto giovane e soprattutto ha ancora tanto da imparare e da capire perché è appena arrivato nel calcio italiano Quanto è carica la squadra in vista di sabato? Dobbiamo essere carichi in tutte le partite quindi interpretarle al meglio giocarle con spirito la squadra lo ha fatto e lo deve fare sempre con la voglia di portare a casa sempre i tre punti a prescindere quindi a prescindere che si giochi in casa o fuori casa stiamo cercando di lavorare su questi concetti questi principi per regalare soddisfazioni ai nostri tifosi quindi abbiamo ancora tanto da lavorare perché è chiaro che io per quello che ho in testa abbiamo ovviamente in un mese non possiamo aver capito tutto come è normale che sia ma comunque ci sono già volontà, spirito, attenzione e voglia di andare a riproporre le cose che prepariamo quindi con fiducia andremo poi a farle sul campo Effettivamente c'è molta curiosità nel vedere quello che sarà il verdetto del campo nel primo impegno per due ragioni uno perché tutto il precampionato ha denotato un Udinese in netta crescita un Udinese che al di là dell'infortunio sul gol subito contro la Jaish ha denotato una impermeabilità difensiva ormai decisamente conclamata per esempio la partita col Middlesbrough ne ho promosso nel massimo campionato inglese nella Premier League ha detto proprio questo ma in generale tutte le uscite un Udinese in netto crescendo dall'altra parte c'è un avversario che può creare grosse difficoltà proprio perché gioca leggero ma cuore leggero perché il suo lo ha fatto quindi parte con il non favorito dal pronostico i favori sono tutti quanti per la squadra bianconera di Beppe Iacchini e quindi sarà estremamente fastidiosa poi lo sappiamo lo ricordiamo da giocatore Mimo Di Carlo e da tecnico è lo stesso tipo di avversario quindi grandissima attenzione Prima di fermarci per quello che riguarda la pausa pubblicitaria un remind ricordiamo ai nostri amici a casa che domani è l'ultimo giorno per sottoscrivere la tessera di abbonamento per la prossima stagione l'ultimo giorno per vivere insieme ai nostri beniamini quella che è una stagione all'insegna del forte rilancio dell'Udinese di molti giovani giocatori pescati un po' in tutto il mondo e sappiamo che molti incendiano la fantasia di voi amici a casa i Peñaranda i De Paul Fofanà Balic stesso che l'anno scorso faceva pur parte della rosa ma comunque è oggetto di grandissima attenzione e ricordiamo anche che sono disponibili ancora tagliandi per tutti i settori dello stadio quindi a portata di diverse tasche e di desideri di vedere la partita in vari posizionamenti della nuovissima e accogliente Tachia Arena che essendo completamente ristrutturata anzi in certi settori assolutamente nuova e completamente coperta obiettivamente anche da questo punto di vista rende assolutamente agevolissimo seguire i propri beniamini ci fermiamo un momento primo break promozionale poi torniamo immediatamente da voi con immagini dal Bruseschi e tutto il resto ci sono tante notizie che stanno arrivando alcune molto curiose dalla Premier League non andate via rieccoci amici ben ritrovati seconda tranche seconda parte di ritiro live in cui andiamo a proiettarci sempre più seguendo un filo logico quello che è successo nella partita con l'Aljaish quello che succede oggi e quello che succederà nei prossimi giorni di avvicinamento con la conferenza stampa di mister Iachini prima del debutto ufficiale stagionale turno di Coppa Italia l'avversario è lo Spezia tornando a fare un passo indietro giusto per concludere quello che se non l'avete visto vi mostriamo noi adesso magari l'avete letto sapete il risultato avete visto chi sono i marcatori ecco appunto andiamo a parlare di un volto nuovo in casa bianconera bomber di giornata uno dei due di ieri sera parliamo del tunisino Arbaoui mancano pochi giorni alla prima partita ufficiale oggi un buon test contro Aljaish per te anche la gioia di aver segnato il primo gol con la maglia dell'Udinese sì sono contento per il mio primo gol con l'Udinese spero facciamo meglio dopo la partita della Coppa d'Italia dove ancora lavoro ancora tanto per migliorare Cosa Ponte è stato un periodo molto lungo di allenamenti molto duri com'è adesso lo stato di forma della squadra come ti senti come sta la squadra adesso? io penso la squadra è pre per il calcio per come com'è bene con la buona maniera e come dice in posto dove ancora lavoro tanto cosa io penso è positiva per la prima partita del calcio Qual è stata per te la difficoltà maggiore in questo periodo di allenamento difficoltà metodi diversi di allenamento tattica cosa? Io conosco un po' l'allenamento in Italia ma ok il primo allenamento è un po' duro per tutti tutti i giocatori ma adesso tre settimane o quattro settimane di preparazione io penso tutti i giocatori e tutto il mondo e io pre per il campionato dovrà migliorare tante cose però l'italiano è già incredibile complimenti a Damdi perché parla un italiano fluentissimo davvero davvero complimenti è arrivato arrivato qua da noi che già evidentemente lo parlava bene comunque migliorato anche parlando con i suoi compagni domani ore 12.15 conferenza stampa del nostro mister prepartita di Beppe Iachini andrà a inquadrare chiaramente quello che è l'impegno con lo Spezio il primo stagionale dove ci sono in palio i tre punti questa mattina però è questo uno degli eventi molto singolari che stanno contraddistinguendo questa estate bianconera questi ultimi giorni prima di pre-season prima del dell'avvio ufficiale della stagione in Piazza San Giacomo a Udine evento notevolissimo diverso dal solito ed è veramente accativante che cosa calcio balilla in piazza giocatori dell'Udinese contro i tifosi andiamo a seguire quelli che sono i commenti degli stessi giocatori all'evento di questa mattina ebbene sì ce lo chiede anche Cuba Young to Udinese TV è presente anche oggi a Piazza Giacomo Matteotti per questa bella iniziativa dopo le telefonate che vi abbiamo testimoniato a casa dei tifosi indecisi da parte di Felipe Widmer oggi si gioca a calcetto e sì questa è l'iniziativa della mattinata ma non solo perché poi nel pomeriggio ci sarà un supplemento di operazioni anche allo stadio per ora sono qui Mato Sertò e Ianto in attesa di De Paul e Zapata già tanti curiosi arrivati ovviamente per sfidarli vedremo poi le loro qualità nelle partitine di calcetto piazza che si è gremita pian piano sessione di autografi ovviamente inevitabile anche per i ragazzi bianconeri vedremo poi se faranno delle belle figure a calcetto o comunque sarà meglio vederli giocare sul rettangolo verde vero e proprio in tanti sono pronti a sfidarli tutti rigorosamente con la maglia I love you dispensata a piene mani dall'udinese calcio la maglia che riassume appunto lo slogan della campagna abbonamenti e questa iniziativa vuole ovviamente sensibilizzare chi ancora non ha deciso se fare o meno l'abbonamento vuole entrare nel cuore dei tifosi con queste belle iniziative per trovare nuovi stimoli e nuove spinte per andare tutti allo stadio per questa prossima stagione di calcio che sarà sicuramente maggiormente ricca di soddisfazioni rispetto all'anno scorso allora Jakub so che nel prepartita di solito l'intervista è dura ma c'è tensione perché a breve potresti essere sconfitto da tutti questi tifosi non so come la vedi? vediamo 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 se loro sono più forti di noi facciamo un po' di calcetto divertiamo un po' una bella una bella presenza con tutti i tifosi di Udinese quindi noi tre anzi cinque se arrivano anche Zapata con il Paolo saremo tutti contenti come avete preparato questo avvenimento ieri sera a letto presto ovviamente perché oggi la partita è importantissima oggi è più importante di ieri Toma tu non so se l'hai capito ma questa è una tattica ti fanno mettere tanti autografi così ti si stanca la mano e poi a calcetto perdi l'ho capito bene sono molto furbi però mi sono allenato ieri sera quindi sono in forma appunto c'è stato un ritiro importante prima di questo avvenimento al di là delle battute e degli scherzi è bello vedere quanti sono venuti quest'oggi nonostante il tempo anche un po' incerto è vero non mi aspettavo vedere tanti gente così presto la mattina fa sempre piacere un bel tempo anche quindi tutti contenti cambio di modulo abbiamo spostato Cuba Youngton sulla sinistra ci siamo messi in mediana vicino a Rider Matos anche se non è il suo ruolo per questa giornata ci hai confessato che un po' lo temi questo appuntamento perché non sei bravissimo a calcetto però darai il massimo sì non sono molto bravo però sono sicuro che riusciremo a vincere anche perché la tua qualità migliore è la corsa lì i giocatori stanno fermi sono fermi quindi però speriamo di fare bene e vincere quanto state aspettando che arrivino i vostri compagni nel frattempo tanti autografi sono molti ragazzi tifosi di tutte le età venuti a vedervi e appunto a stare vicino a voi sì sì sono contento non mi aspettavo così tanta gente sono contento che i tifosi siano vicini qua con noi speriamo di fare divertire lì a calcetto prima che ti rapiscono al biliardino che mi hanno detto tu devi essere molto forte in porta no in porta no dai avanti davanti anche nel biliardino tanti tifosi già ti hanno fatto fare cento autografi una bella mattinata tutti insieme sì sì va bene compartire un po' con la gente speriamo che continui così no la domanda è ma i ganci valgono oppure no perché voglio dire la mia generazione è cresciuta col calcio balilla quella credo magari i ragazzi più giovani Matos e compagnia forse no ma la domanda è il gancio sia passare la palla velocemente fra gli omini è possibile o no perché lì cambia tutto c'è gente che ci ha fatto le proprie fortune scommettendo o puntando soldi sulla propria bravura il gancio è legale o illegale dipende da torneo a torneo chissà se in questo caso e nella postilla di questa sera in curva nord dell'appuntamento sarà stato concesso oppure no quello che invece è molto importante andare ad analizzare è come stanno vivendo al di là dell'aspetto ludico i nostri ragazzi i nostri giocatori perché la stagione è alle porte e se il buongiorno si vede dal mattino dobbiamo fare una bella prestazione fare risultati andare avanti in Coppa Italia perché è una falsa porta per arrivare in Europa lo diciamo sempre è una squadra giovane con molti ricambi brillante come l'udinese che abbiamo visto quest'estate deve assolutamente puntare all'obiettivo questa mattina oltre a parlare di calcio balilla e di divertimento si è parlato della stagione che si sta avvicinando ascoltiamo abbiamo fatto una buona partita l'ultima partita di Amico prima di Coppa Italia quindi siamo contenti che abbiamo vinto e adesso prepariamo per la Spezia si era molto bene fatto bene a sottolinearlo anche un quasi gol per te un bel tiro dalla distanza come ti sei trovato e come vi state proiettando la partita con lo Spezia mi sono trovato bene peccato che questa tira non finita in retta però è più importante fare in Serie A oppure in Coppa Italia ci prepariamo bene abbiamo fatto un mese di ritiro ci alleniamo duro ci prepariamo bene quindi penso che facciamo una bella partita davanti al nostro pubblico ci siamo ormai davvero mancano pochissime ore allo Spezia come sta il gruppo come hai visto la partita di ieri e come vi state proiettando alla prossima sta bene stiamo crescendo abbiamo fatto una buona gara ieri è importante non perdere e adesso siamo pronti per il sabato come si è trovato ieri ultimo test amichevole tra poche ore si comincia a fare sul serio con lo Spezia le indicazioni sono buone sì quello è stato l'ultimo test è stato un buon test ora si comincia le partite ufficiali e speriamo di fare bene arrivare lì e già sabato giochiamo e vincere contro le Spezia l'ultima domanda è una curiosità perché ieri ha esordito la grandissima Evandro 4 minuti già un gol abbiamo visto Danilo andare a complimentarsi diciamo è iniziato bene come tu conosci questo ragazzo arrivato dal Brasile sicuramente è un giocatore interessante sì è un giocatore interessante è bravo conosciuto da poco però sembra essere anche un bravo ragazzo ha delle qualità e speriamo che possa fare bene qua e portare magari l'udinese insieme a voi altri con tanta qualità più in alto rispetto all'anno scorso certo sicuramente sono sicuro che faremo molto meglio dell'anno scorso e porteremo delle soddisfazioni ai tifosi dell'udine ieri ti abbiamo visto molto in forma in un primo tempo che magari non ha visto l'udinese segnare ma comunque è stata una buona partita Iachini ha apprezzato entrambi i tempi sì abbiamo fatto una grande partita in generale nel primo tempo è stato un po' all'inizio abbiamo iniziato molto bene dopo abbiamo subito il gol contro ma dopo non siamo usciti a paregliare abbiamo creato anche tante occasioni ma l'importante è che la squadra è in crescita adesso vogliamo sabato subito essere pronti per passare il turno probabilmente magari di nuovo in coppia con Matos magari vi faremo giocare insieme anche a biliardino così affinate l'intesa in coppia di Pol vediamo se riusciamo a vincere qualche partita è tutto bello scusa la sagoma del Puma che si stagliava dietro la curva nord del del campo da calcio Balilla in piazza San Giacomo scherzi a parte un saluto al Puma e alla sua maglietta I love you vedo collegato dall'interno della Dacia Arena dove si sta allenando l'Udinese con il pallone di gara con strane evoluzioni che non gli sono proprie Stefano Giovampietro buon pomeriggio ste si provavamo a tirare il pallone al prof De Guidi che era uscito e aveva simulato di fare la stessa cosa con noi non vedo perché tu debba scusarti con il Puma hai assolutamente fatto una disamina perfetta di quello che era il video però giustamente no scherziamo anche noi era inevitabile la presenza del Puma dopo che ha organizzato insieme anche ai vari Pizzamiglio e gli altri tutta questa bella mattinata che abbiamo seguito insieme è solo il primo atto perché tra l'altro a proposito di figure che si stagliano in curva nord il Puma e nella curva nord anche dello stadio qui alla Dacia Arena dove siamo siamo arrivati anche con un po' di ritardo con il collegamento proprio perché siamo usciti al Bruseschi fatica inutile per il buon Franco Snidero perché a metà strada è stato rispedito indietro visto che la squadra sta facendo una sorta di rifinitura non propriamente a porte chiuse alle nostre spalle infatti io mi tolgo per vedere cosa sta succedendo dicevo non si può parlare di rifinitura a porte chiuse proprio perché in curva nord c'è l'Udinese Point quindi c'è molta molta folla che sta guardando l'allenamento diciamo che di solito vediamo sempre i seggiolini vuoti oggi ci sono comunque una ventina di persone se non di più che stanno assistendo alle operazioni di allenamento della squadra bianconera è poco più di un defaticante quello che stiamo vedendo in questa circostanza con qualche schema su palle inattiva da provare proprio in vista della gara contro lo Spezia una gara che sarà sicuramente molto importante perché la prima della stagione si aprirà proprio la stagione ufficiale rimaniamo con le telecamere sui giocatori perché adesso possiamo tranquillamente riprenderli visto che si è finito di studiare gli schemi anche se lo ripetiamo ancora una volta Iachini ha detto che si comincerà ad alzare il ritmo a studiare seriamente le palle inattive soltanto un po' più in là adesso il preparatore atletico Tafani cerca di richiamare il gruppo che si sta sbizzarrendo con i palloni compreso anche Stipe Perizza che ci guarda in maniera preoccupante no soltanto prove tecniche di Aurelio per Perizza il primo gli è uscito particolarmente bene il secondo per poco non cade il buon Stipe che sarà un altro dei protagonisti di questo pomeriggio seguiremo sempre live all'interno del TG Sportivo perché dicevamo quello di questa mattina in Piazza Matteotti è stato soltanto l'antipasto di quella che sarà poi la giornata il pomeriggio di oggi all'Udinese Point ci sarà proprio di nuovo un calcetto con altri calciatori tra cui appunto lo stesso Stipe Perizza e Arba Ui anche che ieri è andato in rete prima abbiamo sentito le sue prime parole in italiano che sfideranno i tifosi che correranno qui proprio per giocare tra l'altro si intravede il calcetto all'ingresso V2 per anche cercare di farlo inquadrare dal nostro grande Franco Snidero con il Pomo e Pizzamiglia ovviamente già in primissima linea pronti per un po' mandare i tifosi proprio in quella zona farli divertire con i tifosi e dotarli ovviamente delle magliette I Love You che oggi sono state le grandi protagoniste sarà un'occasione per vedere se magari i giocatori di oggi pomeriggio saranno un pochino più forti di quelli di stamattina non ce ne vogliano i cinque ragazzi che sono venuti oggi tranne qualche sprazzo da parte di Jankto e Matos rimandati invece Duvan, De Paul e Erto ovviamente ci scherziamo su l'importante era che si divertissero i tifosi tra cui c'erano anche dei professionisti nascosti celati uno dei quali abbiamo preso noi contro ci ha fatto fare anche una brutta figura a me e a Criscuolo che stavamo giocando proprio per quel che riguarda la partita di calcetto possiamo anche spostarci sui giocatori che stanno continuando il loro allenamento appunto la formazione bianconera nonostante siamo in una posizione non felice come mi fa notare appunto Franco per quanto riguarda l'essere contro luce in questo pomeriggio andante al Dacia Arena i giocatori proseguono queste operazioni di defaticamento dopo la partita di ieri in cui più o meno hanno giocato tutti c'è chi ha giocato qualche minuto di meno però è andato in gol ovviamente il riferimento è a Evandro che ha bagnato alla grandissima il suo esordio e comunque si è fatto notare subito con una bella rete una rete pesante o meglio l'abbiamo definita non bella ovviamente di rapina ma comunque una rete importantissima che gli dà un po' quell'etichetta del predestinato speriamo che possa continuare a segnare ancora sono praticamente quasi tutti a disposizione l'assenza nota quella più pesante è ormai risaputa è quella di Cyril Theroux che ancora prosegue nel suo lavoro differenziato con trattura al polpaccio per il giocatore francese che viene ovviamente non può essere utilizzato nella partita contro lo Spezia per questo infortunio poi sarà squalificato per le prime due di campionato quindi appuntamento con il numero 77 e per settembre quando lo rivedremo in campo vedremo poi dove lo collocherà Iachini che sta scegliendo bene il da farsi con questa squadra e soprattutto con i tanti elementi che devono essere adesso valutati bene attentamente in vista dell'inizio della stagione ci spronava anche da lontano Cicciolodi come al solito sempre molto simpatico in questa seduta che non è particolarmente faticosa e impegnativa per i ragazzi una seduta che comunque è importante perché ci avvicina sempre di più a quello che è l'appuntamento di sabato sabato sera alle 19.30 si apriranno i cancelli qui alle 18 per assistere alla gara un'idea di formazione ce la siamo fatta tra le partite tra Middlesbrough e ieri anche se comunque sotto questo punto di vista i secondi 45 minuti di Lignano di ieri sera hanno dato molti grattacapi e sarà sicuramente contento di questo a Beppe Iachini che ha visto molti elementi in forma entrare benissimo in partita non soltanto Evandro per il gol ma anche tanti altri citando su tutti appunto proprio con E Erbawi che hanno confezionato il gol dell'1-1 quindi ampia rosa di scelte per Beppe Iachini al di là di Terro come abbiamo detto prima che non sarà a disposizione può attingere a piene mani dalla grande rosa bianconera allenate Massimo noi siamo sempre qui pronti per tornare live con l'allenamento pomeridiano grazie Stefano una notizia e poi una domanda la notizia è legata riallacciandosi all'aspetto come si gonfiava la maglietta da parte del Poma ha un commento su Higuain che chiaramente non ha presentato una silhouette proprio da dio greco e qualcuno ci è andato giù pesanti sulla gazzetta dello sport leggiamo il croato Robert Prozinecchi grande giocatore oggi commissario tecnico della Azerbaijan che ha fondato il tec su Gonzale Higuain nei suoi chili di troppo comparsi nelle prime uscite con la maglia della Juve quando l'ho visto sono rimasto sconvolto ha dichiarato è addirittura più grasso di me la Juve lo ha pagato 90 milioni per Higuain e invece a Torino è arrivato un maialino pesantissimo come commento posso immaginare il suo shock dopo aver insistito tanto parla di Allegri per il suo acquisto ma alla fine credo lo rimetteranno presto in forma obiettivamente un commento sarcastico esagerato per un giocatore che chiaramente non è assolutamente in forma ma insomma voglio dire anche l'anno scorso abbiamo visto che pur non essendo al massimo della silhouette Gonzalo Higuain ha segnato una caterva di gol quindi da questo punto di vista mi pare di capire che i tifosi della Juve possano dormire sonni assolutamente tranquilli è un momento in cui in Friuli c'è molto calcio e infatti andiamo a vedere l'Under-19 che questa sera sarà impegnata a Manzano contro la Croazia in una gara amichevole con i convocati di Roberto Baronio ecco appunto il capo delegazione Massimo Paganin lo vedete con il vice coordinatore che c'era anche l'anno scorso Maurizio Viscidi è stato intervistato ai nostri microfoni e va a fare un punto a 360 gradi su quello che è la situazione non solo dell'Udinese ma in generale del calcio italiano archiviato un ciclo che ha portato l'Under-19 alla finalissima in Germania con uno splendido europeo si riparte con un nuovo gruppo sì sicuramente ogni anno ovviamente si scala si scala di un'annata quest'anno ci sono i 98 che hanno fatto delle buone cose lo scorso anno che devono maturare devono crescere e devono dimostrare di essere all'altezza per la stagione che sta iniziando e di conseguenza le qualificazioni all'europeo del prossimo anno raccogliete un'eredità comunque importante visto quello che hanno fatto i ragazzi e tutto lo staff la struttura dell'annata precedente sicuramente questo deve essere motivo d'orgoglio deve dare una consapevolezza diversa deve dare delle responsabilità e le responsabilità solitamente fanno crescere per cui credo che questo sia importante il fatto di arrivare dopo un'annata così importante per il calcio italiano giovanile dove l'Under-19 si era qualificata per la fase finale dell'europeo l'Under-20 aveva fatto anche lei le qualificazioni e aveva vinto il torneo che aveva disputato a livello europeo e l'Under-21 ha fatto ottime cose di conseguenza credo che siano tre annate nelle quali le cose sono andate bene è chiaro che raccogliere questi frutti significa che si è seminato significa che il lavoro che è stato fatto è un lavoro importante e riguarda non solo le categorie che ho appena citato ma anche tutte le altre che vengono poi quindi le stagioni 98, 99, 2000 quindi chi viene dopo sta facendo un ottimo lavoro e quindi io credo che i frutti si raccoglieranno da qui in avanti questa è già l'età in cui alcuni calciatori potrebbero avere delle esperienze a livello di prima squadra in alcune nazioni questo già avviene poi si avverte il gap in campo credi anche tu che sia importante in Italia cominciare a dare spazio a questi ragazzi nelle prime squadre? ma è importante inserirli nelle prime squadre questa è la cosa più importante poi nel momento in cui c'è quella maturità necessaria farli giocare dargli come dicevo prima delle responsabilità per ciò che riguarda le altre nazioni c'è un modo di operare che è diverso io ho visto le partite sulla fase iniziale di questa diciamo così l'ICC la Siena International Champions Cup che hanno giocato le squadre più importanti come Paris Saint Germain come il Barcellona Real Madrid il Bayern di Monaco e a differenza delle nostre squadre hanno portato via diciamo così la seconda squadra quella nella quale hanno la possibilità di giocare i ragazzi più giovani per fare esperienza e ci sono stati ho visto dei giocatori veramente importanti dei 97 e dei 98 che giocano già nella prima squadra con quell'autorità con l'autorevolezza con la capacità di stare in campo che non tutti i nostri giocatori hanno quindi è un percorso di crescita è un percorso formativo che i ragazzi devono fare devono capire che stare all'interno di una prima squadra presuppone un atteggiamento diverso non è più quello del ragazzo ma deve essere quello dell'uomo maturo che si assume delle responsabilità perché poi giocare in stradi come questi non è una cosa semplice quindi serve grande capacità di stare in campo e soprattutto di mettersi a disposizione effettivamente quello che dice Paganini è condivisibile ma soprattutto è tristemente sotto gli occhi di tutti vediamo i vari tornei delle giovanili e andiamo ad analizzare quante presenze hanno in campionato i singoli giocatori ci rendiamo conto che i nostri forse hanno qualche presenza in serie B in serie A pochissime mentre si trovano a gareggiare contro avversari che hanno a livello di presenze molti più anni di quello che dice la Nagrafe purtroppo è un problema del nostro calcio non solo generazionale prima della rifascia promozionale Stefano abbiamo ancora tre minuti insieme una domanda ma questa mattina nello scontro fra titani giocatori tifosi i ganci a calcio balilla erano concessi oppure no toglimi questo sfizio incredibilmente sì la cosa mi ha assolutamente distrutto dentro perché ho giocato a calcetto biliardino calcio balilla chiamatelo come volete a tutte le latitudini in vacanza a casa ho sempre evitato i gancetti come le bestemmie in chiesa invece no quest'oggi pare che erano concessi però c'è una seconda corrente di pensiero adesso poi l'approfondirò e cercheremo di capire pare che nei tornei professionistici sia valido fare il gancio come si dice in gergo il passetto a mille locuzioni è assolutamente valido ma secondo me rende il tutto un po' troppo facile soprattutto se sei veloce in quel modo i giocatori infatti subivano molti gol così qualcuno si lamentava altri la prendevano più sportivamente però sì è stata un po' la nota della mattinata su cui si è tra molte virgolette discusso alla fine comunque sì sono stati sdoganati quindi anche per chi magari ci segue da casa e si sta prestando a venire alle sei e mezza a giocare a calcetto con i tifosi si può fare quindi vale anche questa regola che a noi non piace ma è stata sdoganata Massimo eh sì non è magari il massimo della deontologia del calcetto calcio-balleria bigliardina appunto chiamiamolo come vogliamo ma tanto quello resta però anche a me in gioventù capitava di vedere grandissime disparità da torneo a torneo da festa a festa dove si potesse giocare con questa regola o meno diventa tutto molto più veloce e molto più spettacolare quindi come diceva giustamente Stefano visto che l'ora è prossima siamo alle 18.15 grosso modo e tra poco andiamo a avere la seconda sessione Curva Nord nuovamente vi aspettiamo per giocare insieme a noi si può giocare a calcio-ballilla a calcetto-biliardino con il gancetto quindi questa non è una cosa da poco due notizie veloci veloci prima di andare in fascia promozionale dall'Inghilterra Ranieri Claudio Ranieri fresco di rinnovo con il Leicester dice vincere di nuovo un'altra volta la Premier League più facile vedere i tia a Londra infatti vedete che il fotomontaggio già li racchiude vicini calcio di casa nostra ternana nel caos dopo l'addio al DS Larini esonerato Cristian Panucci che era arrivato da poco il Milan ufficializza tramite la nuova proprietà cinese quello che è il nuovo amministratore delegato cioè Piero Fassone e abbiamo anche notizie che vanno scusate che qui la pagina si è aggiornata la notizia interessante è legata al fatto che Zazza lo vedete pensa al blitz in Germania ma ora il Wolfsburg è freddino praticamente Simone Zazza sta tenendo in un certo senso in scacco la Juventus perché è interessato ad andare in squadra dove la sua proprietà non lo vorrebbe mandare ultimo break promozionale torneremo immediatamente subito dopo dall'interno della Dacia Arena faremo anche un'incursione sul mondo dell'Olimpia di Rio non andate via rieccoci amici terzo e ultimo segmento del nostro contenitore pomeridiano dal ritiro bianconero con una finestra come dicevamo in apertura su quello che succede a livello sportivo in Italia e non solo breve digressione su quello che sta succedendo a Rio Olimpiadi è arrivata la dodicesima medaglia è bronzo e dal canottaggio a Bagnale di Costanzo ci portano la dodicesima medaglia ed è del metallo meno pregiato ma comunque assolutamente non dispressabile anzi complimenti in una disciplina che da sempre è favorevole agli azzurri intanto Federica Pellegrini rilancia sto meglio e non molo c'è ancora la 4% mista quindi superato quello che era in un certo senso una reazione dovuta allo sconforto una crisi momentanea dopo il brutto piazzamento che l'ha estromessa anche dalla medaglia di bronzo è arrivata all'ultimo praticamente a ridosso dell'ultimo gradino del podio troppo poco per una campionissima come lei porta bandiera azzurra infine 7 rosa parliamo di pallanuoto femminile da sballo 8 a 7 alle giganti australiane una grandissima squadra messa sotto dalle nostre pallanuotisti complimenti anche a loro torniamo alla Dacia Arena torniamo da Stefano Dovan Pietro ci sono esercitazioni con la palla per quanto riguarda i bianconeri cross dal fondo e conclusioni sì siamo ovviamente contenti e sorridenti per la dodicesima medaglia vinta dall'Italia qui il dodicesimo uomo in campo è ovviamente il pubblico della Dacia Arena che oggi ovviamente non è numeroso come nel giorno partita ma sta continuando ad aumentare sta continuando ad arrivare proprio tramite l'Udinese Point della Curva Nord che poi sarà teatro della seconda sfida a calcetto con i giocatori bianconeri che interverranno a sfidare i tifosi hai visto ovviamente bene tu che ci sono dei movimenti con la palla al momento di restituire col volo la linea la riprendo fra poco molto molto bene tra l'altro stavamo vedendo anche altre notizie di mercato una è Piero Ausilio che parla di Ansaldi di grande giocatore tra l'altro Ansaldi seppure infortunato non è un momento molto favorevole all'Inter Inter che potrebbe creare una sfida incrociata con il Napoli Napoli-Inter sfida incrociata rilancio Icardi idea in signe De Laurenti si è aumentato l'offerta per la tutta Argentina e quindi stiamo parlando di qualcosa di molto importante 6,8 milioni di ingaggio fino al 2021 70 milioni per Suning non arrivasse Gabigol i nerazzurri andrebbero su Lorenzo in signe il Napoli ha fatto l'ultima mossa adesso tocca Mauro Icardi durante l'incontro di ieri il DS Cristiano Giuntoli si sono incontrati non dimentichiamocelo ha alzato l'offerta per il capitano dell'Inter 6,8 milioni di euro l'anno diritti di immagine compresi sappiamo che quando si tratta con Napoli c'è sempre il nodo dei diritti di immagine fino al 2021 un rialzo dei precedenti 6,5 che avevano lasciato la moglie e manager Vandanara non soddisfatta completamente e Aurelio De Laurenti per far capire quanto tenga a portare i cardi a Napoli ha fatto un ulteriore sforzo ma non sarà questo il terreno su cui il club azzurro potrà giocare la parte decisiva sarà un altro più personale che coinvolge direttamente i cardi sempre nell'incontro di ieri fino a 70 milioni di euro a patto però che il numero 9 dimostri concretamente la sua volontà di lasciare Napoli e tra l'altro sappiamo che la pista si può andare ulteriormente a biforcare vedete se salta Gabigol l'attaccante brasiliano in questo momento impegnato nell'Olimpiadi di Rio l'estate del mercato di Inter-Napoli però potrebbe non chiudersi intorno al nome di Icardi perché gli uomini di mercato nerazzurri stanno lavorando sotto traccia al nome di Lorenzo Insigne Lorenzo il Magnifico che sul cui conto da più parti sono spifferi di malumore per il contratto da rinnovare torniamo alla Dacia Arena torniamo da Stefano Giovampietro Sì anche per spiegare ovviamente il motivo per cui ti ho restituito repentinamente la linea comunque è un'indicazione che abbiamo ricevuto da parte dello staff tecnico di Beppe Iachini ovviamente sono movimenti nuovi tra virgolette questi che stanno provando i giocatori bianconeri gli altri li abbiamo ormai imparati apprezzati a lungo a casa quindi ci hanno chiesto ovviamente la gentilezza di non riprendere come spesso capita quando ci sono delle esercitazioni tattiche allora immediatamente con la nostra telecamera comandata dal buon Franco Snidero ci siamo spostati sui tifosi immagini che resteranno quindi fisse sulla curva nord comunque il commento dell'allenamento che rimane legato proprio a questi movimenti e la non novità ovviamente che sarà 3-5-2 ma su quello c'è poco da discutere i ragazzi che si stanno allenando così come si stanno allenando anche i portieri proprio sotto la curva nord con le bombe di Brunner che continuano a piovere sui guantoni di Carnezis e Samuele Perisan visto che l'altro terzo portiere Vidi Zoni è andato a aiutare proprio la formazione dei giocatori di movimento ad allenarsi persone che continuano ad arrivare invece in grandissimo numero visto che ci concentriamo adesso proprio su questa questione sono molti i tifosi chissà se tramite questa iniziativa comunque ci sarà un gran richiamo anche un ritorno della voglia di sottoscrivere l'abbonamento perché c'è davvero tanto bisogno per quanto riguarda la squadra di avere l'affetto del proprio pubblico la spinta alle spalle parlavamo prima di dodicesimo uomo ed è importante che ci siano dei numeri importanti a cominciare dalla gara contro lo Spezia che magari non richiamerà il pubblico delle grandi occasioni ricordiamo che si gioca in una data un po' scomoda sabato orario serale praticamente alla vigilia della nottata di Ferragosto del 14 che significa per molti vacanza e uscita al mare però comunque vedremo quanti saranno i tifosi bianconeri che arriveranno qui a cremire proprio gli spalti della Dacia Arena per assistere alla sfida che inizierà che farà partire proprio la stagione verrà tagliato il nastro partita difficile l'abbiamo analizzata più riprese questa gara contro lo Spezia squadra assolutamente da non sottovalutare la formazione di Mimmo Di Carlo perché abbiamo visto anche ieri nell'amichevole contro magari la non quotata dal Jaish basta poco basta un minimo calo di tensione e di attenzione che si va in difficoltà si può poi veder compromessa una partita soprattutto quando si tratta di gare secche bisogna poi stare particolarmente attenti ieri l'Udinese ha avuto un buon guizzo nel secondo tempo ha recuperato una partita che si era messa comunque male anche se non con molti demeriti perché l'Aljaish era praticamente andata in rete sul primo tiro in porta quindi una buona reazione lo Spezia senza nulla togliere alla formazione Catariota può rappresentare un banco di prova già leggermente più ostico si tratterà di partita vera e come detto secca ricordiamo che in caso di parità si procederà ai tempi supplementari e in caso di ulteriore eventuale parità ai calci di rigore ovvio che la voglia di Iachini e del pubblico friulano è di chiuderla nei 90 minuti di festeggiare poi con i propri tifosi e pensare poi direttamente alla trasferta di Roma perché non dimentichiamo che si comincia proprio all'Olimpico la stagione e il campionato di Serie A Team 2016-2017 verrà aperto proprio dalla gara Roma-Udinese che si giocherà sabato alle ore 18 una Roma che sarà ovviamente tra virgolette distratta dal doppio appuntamento con il Porto che si terrà proprio prima e dopo la gara con l'Udinese quindi bisognerà anche cercare di sfruttare a proprio favore questo elemento fattore positivo e cercare di fare bene però la cosa che ci è piaciuta e che ci ha colpito è che i giocatori a sentire parlare di Roma non assolutamente fanno nessuna piega pensano soltanto allo Spezia è una gara da non fallire è un appuntamento davvero importante perché anche se ultimamente negli ultimi due anni è stata una partita vinta sempre in maniera agevole dall'Udinese è una gara che può essere insidiosa e poi partire con il piede giusto è sempre molto importante cercare di trovare quella benedetta o maledetta continuità che l'anno scorso l'Udinese proprio non riusciva a trovare spesso alternando grandissime prestazioni con più prove opache con magari serie di sconfitte inaspettate quindi si vuole cercare di carburare bene per questo la mentalità che sta instillando Iachini è quella giusta quella di lottare su ogni pallone ogni minuto secondo delle partite che l'Udinese giocherà di niente massimo torneremo poi magari qui per le ultimissime considerazioni esatto esatto grazie Stefano torniamo a vedere qualcos'altro dai nostri dei nostri siti sempre Premier League visto che ormai è diventato un Italian Job andiamo a vedere uno nostro allenatore fresco di Premier League come Antonio Conte che ha lasciato la nazionale per andare al Chelsea mette a dieta al Chelsea stop a ketchup e zuccheri Claudio Ranieri diceva esattamente il contrario ha fatto esattamente il contrario fino all'anno scorso e probabilmente lo sta facendo rispetta il regime alimentare incredibile per quanto riguarda i canoni italiani dei giocatori locali e a proposito di Leicester Marez sembrava ormai certo di restare a Leicester ha già giocato anche quello che è stata la partita con il Man United il Community Shield beh insomma Marez resta anzi no l'Arsenal torna alla carica quindi non è detto che Riam Marez possa restare uno dei pezzi pregiati insieme a Jeremy Vardi della squadra di Ranieri calcio di casa nostra invece presentazione oggi dei calendari di Lega Pro in corso in questo momento a Parma parla il presidente della Lega Pro Gabriele Gravina e dice ritorno a 60 squadre primo risultato importante per i tifosi bianconeri una notazione che magari è passata sotto silenzio Giuliano Gianichedda precedentemente nei quadri federali dell'Under 17 per esempio e non solo è inventato il nuovo allenatore della Racing Roma ex lupa Roma ripescata in Lega Pro quindi in bocca al lupo a Giuliano grande grande personaggio di spessore grande giocatore dell'Udinese che da una dimensione provinciale ha preso la dimensione europea uno dei volti di quella squadra in bocca al lupo anche a lui ultimo collegamento dallo stadio e dalla Dacia Arena con Stefano Giovampietro steve una curiosità ma qual è la coppia di giocatori più forte a calcetto insieme quali sono meglio mescolati e chi sta in porta e chi sta in attacco credo sicuramente potevamo dire Jankto in porta dato le indicazioni migliori anche se detta così sembra che stia dicendo una follia ma ovviamente parliamo di calcetto quindi metteremo Jankto in porta e probabilmente Matos davanti una coppia che ha macinato delle buone partite anche Erto ha provato qualcosa diciamo poco affiatata nonostante fuori dal campo siano grandissimi amici De Paul e Zapata perché c'erano dissidi nello spogliatoio diciamo così per chi anche questa mattina assistito alle gare De Paul è un ragazzo a cui non piace perdere nemmeno a calcetto contro i tifosi se la prendeva un po' con Zapata quando sbagliava quindi un giocatore perfezionista mentre parlo ovviamente continua anche l'allenamento con anche dei bellissimi gol stiamo vedendo anche se la squadra si sta allenando 11 contro 0 gol di pregevole fattura da parte di Erbaoui Zapata e davanti c'è un buonissimo stato di forma generale vedremo Iachini cosa sceglierà proprio per la gara contro lo Spezia ripetiamo indicazioni sono arrivate dalle ultime due amichevoli in maniera anche abbastanza sensibile con quella che dovrebbe essere la coppia Zapata Matos che dovrebbe partire dal primo minuto ma le sorprese sono all'ordine del giorno anche perché ieri in tanti si sono fatti notare come dicevo in precedenza Iachini potrà scegliere abbondantemente quello che sarà il da farsi allenamento che volge quasi alla conclusione poi i giocatori che si intratterranno all'Udinese Point dove sono sempre più numerosi i tifosi bianconeri vi ricordiamo che stiamo inquadrando proprio loro perché evitiamo di far vedere quelli che sono i lavori tattici che sta mettendo in campo l'Udinese comunque il quadro è questo il pubblico è caldo scalpita per le partite a calcetto che arriveranno anche questo pomeriggio vedo già molti volti già scrutati questa mattina a piazza Matteotti perché comunque c'è tanta voglia di ripetere quella che è stata la bella esperienza di questa mattina tutto dalla Dacia Arena allineate Massimo e un saluto ovviamente a chi ci ha seguito grazie grazie Stefano effettivamente ripetita Juvent ci salutiamo ricordandovi amici che domani è l'ultimo giorno per abbonarsi l'ultimo giorno utile il 12 di agosto per vivere insieme ai vostri bianconi un'intera stagione sportiva disponibilità in ogni ordine di posti detto questo ci salutiamo l'informazione sportiva torna fra mezz'ora la nostra trasmissione ritiro live stessa ora stessa rete domani ciao buona serata buona serata